Dottore Ferri, parliamo un attimo di questo corso che oggi viene presentato, un corso che riguarda l'economia e soprattutto che si fa una differenza all'interno dell'economia. Si torna forse a quello che era il concetto principale, economia sociale? Sì, la scommessa che noi facciamo è una scommessa che ha molti aspetti. La prima cosa è dare dei contenuti ai nostri giovani, ai nostri studenti, dare una formazione. Dare una formazione è l'elemento principale. Dare conoscenze serve a elevare fuori dalle situazioni di difficoltà. Ci rendiamo conto che Crotone ha avuto un glorioso passato ma è in sofferenza da decenni oramai. E quello che vogliamo fare con questo percorso di economia che andiamo a proporre ai giovani crotonesi che vorranno frequentarlo deve essere un percorso che non costruisce illusioni ma costruisce realtà. Quindi non solo formazione ma anche interlocuzione con il mondo del lavoro. Quindi l'Umsa Talent Academy che è un'esperienza ormai pluriennale attiva a Roma e che sarà disponibile come servizio anche per gli studenti che frequenteranno da Crotone è una realtà che vuole aiutare i nostri laureati a interloquire con il mondo del lavoro sapendo scrivere un curriculum, sapendo fare un colloquio per riuscire a prendere il lavoro che desideri mettendo in relazione anche le capacità di innovazione, di scommessa dei nostri giovani su progetti innovativi che possono piacere alle aziende con cui li metteremo in contatto. E tenendo conto che questa è una terra dove la fuga dei cervelli è senza freno diciamo, è continuamente in crescita e tenendo conto che lei parlava di tre curricula ma parlava anche della possibilità a questi giovani di proporsi alle aziende come stava dicendo in questo momento. Quindi anche il rapporto con il mondo del lavoro diventa importante per l'Umsa? Assolutamente, infatti prima di partire con il corso abbiamo voluto fare un incontro con le parti sociali cioè con chi sta sul territorio e che ci sa meglio dire di cosa il territorio ha effettivamente bisogno. Oltre a questo naturalmente essendo la realtà crotonese in sofferenza c'è bisogno di nuove attività e quindi lì si entra nel mondo delle start-up, nel mondo dell'autoimprenditorialità su cui in l'Umsa stiamo facendo dei progetti che porteremo anche ai giovani crotonesi. Tenendo conto che la Lumsa nel meridione è diffusa, c'è Palermo, Taranto, Crotone, quindi sono tre sedi importanti del meridione è una università cattolica quindi apre degli spiragli anche su quella che è un po' l'identità cattolica quando parliamo di economia sociale. Certamente, infatti lei ha fatto riferimento prima all'economia civile che è un nostro cavallo di battaglia il professor Zamagni e il professor Bruni che sono rispettivamente nel Consiglio di Amministrazione e uno dei nostri principali docenti di economia hanno rifondato negli scorsi decenni un pensiero molto lontano che si rifà ad Antonio Genovesi e ad altri pensatori italiani. Antonio Genovesi, basti dire, la prima cattedra di economia politica nasce a Napoli, non nasce. a Londra o a Parigi e Antonio Genovesi pensa che l'economia deve occupare due dimensioni, una è quella individuale, accentratrice, egoista, ma l'altra è quella cooperatrice. lui parla di forze centripete e centrifughe e la cooperazione e quindi l'economia sociale è un aspetto fondamentale che si deve affiancare e non va mai cancellato. oggi nel nostro modello di sviluppo che incontra tutti i suoi limiti, che produce anche quelle marginalizzazioni che purtroppo si soffrono in questa terra, ci si è basati su un modello di sviluppo economico che ha solo l'individuo al centro. Un'università cattolica come la nostra vuole risvegliare l'orgoglio degli individui ma far capire loro che l'economia e la ricchezza si genera tutti assieme. Quanto è importante la cultura per la ripresa di un territorio? La cultura è fondamentale. La nostra fondatrice, la venerabile Luigia Tincani, che appunto noi siamo un'università fondata da una donna e siamo molto orgogliosi di questo, aveva proprio in mente questo, cioè portare l'educazione, portare la conoscenza al servizio dell'elevazione, di liberare gli individui dalle loro situazioni di difficoltà. Cosa proponete ai giovani studenti, ai giovani universitari di questa città? Perché scegliere la LUMSA e perché rimanere a Crotone? Ma diciamo, formarsi presso la LUMSA credo che sia una buona formazione, come ce lo dicono le classifiche in termini di capacità di ricerca dei nostri docenti, in termini di apprezzamento dei nostri corsi, in termini di occupabilità dei nostri laureati. Poi scegliere di rimanere a Crotone oppure di andare da altre parti, questo è una cosa che dipenderà dalle loro opportunità, ma noi facciamo la scommessa che da qui a dieci anni ci saranno un bel numero di studenti che si sono laureati da noi a Crotone e che sceglieranno di rimanere a Crotone e speriamo di vincerla questa scommessa. Si riparte dalla cultura, si riparte dall'università, da queste proposte insomma che la LUMSA fa, la LUMSA fa si riparte dall'economia intesa come economia civile e sociale, quindi l'opportunità di mettersi al servizio dei cittadini e quindi nello stesso tempo di aiutare i giovani ma nello stesso tempo aiutare il territorio. Assolutamente sì, diciamo che Crotone e altri luoghi che hanno avuto un glorioso passato come Crotone e che oggi non riescono a trovare facilmente una via di sbocco, hanno bisogno non solo di generare delle ricchezze private ma anche di generare delle ricchezze condivise. Mi fa piacere dire qua che uno studente su sei della LUMSA è già uno studente di Palermo, Crotone o Taranto e quindi noi esprimiamo questa vocazione a servire i territori della Magna Grecia se vogliamo, anche se c'è già un'altra università che si chiama così, quindi non saremo mai noi l'Università della Magna Grecia ma in un certo senso nei territori che ce lo chiedono, che hanno bisogno di essere assistiti, noi ci siamo. Lei ha promesso che sarà Crotone tutte le settimane? Io in un autunno farò il docente di microeconomia e quindi sarò qua tutte le settimane o quasi, diciamo tra ottobre e dicembre sarò presente nel territorio e sarà un piacere non solo conoscere i giovani che si iscriveranno al corso di economia ma anche continuare a interloquire con le parti sociali di questo territorio che ripeto ha un glorioso passato e deve trovare la via per un glorioso futuro. Le faccio un'ultima domanda, lei parlava di microeconomia, ecco la microeconomia come si sviluppa? La microeconomia è un corso tradizionale che aiuta lo studente a capire come si formano le scelte del consumatore, come si formano le scelte dell'impresa, però al di là di alcuni strumenti di base che sono indispensabili, nel mio corso di microeconomia c'è anche molto dell'economia civile, quindi non solo individuo ma anche società. Alberto Padula, Crutone perché collabora con l'Umsa e dobbiamo dire che questo corso che oggi è stato presentato che riguarda l'economia è un corso che apre tanti spiragli, soprattutto quello che riguarda l'economia sociale. Certo, tantissimi spiragli in una città che nel corso degli anni si è un po' depauperata di quelle che sono le principali attività e i principali punti di forza, quindi economia sociale per poter sviluppare in qualche modo il territorio, o meglio contribuire a sviluppare il territorio possibilmente insieme a tutti quelli che sono gli attori e a tutte quelle che sono le parti sociali. Quindi il nostro obiettivo è sicuramente quello di voler contribuire a questo sviluppo, portare avanti un progetto a lungo termine, un progetto che però sia chiaramente definito negli obiettivi, nelle attività da svolgere, nei ruoli di ognuno e soprattutto, come dico sempre io, nei tempi, perché i tempi sono una cosa importantissima. Nel momento in cui un'iniziativa parte noi dobbiamo chiaramente specificare e definire anche la tempistica, quindi non solo le attività ma anche i tempi delle cose da fare. Marco Rotonese, che cosa pensa, come può cambiare questo territorio e soprattutto come può cambiare l'economia di questo territorio, visto che è una città depressa e in profonda crisi? Beh, questa è una domanda molto complessa, molto difficile, difficile dare una risposta, ma io credo che con il contributo di tutti quanti, con il contributo ovviamente delle parti sociali, dell'imprenditoria, dell'università, anche ovviamente in questo momento col supporto della Curia, possiamo sicuramente realizzare una serie di attività nell'ambito sicuramente della cultura, dell'istruzione, del turismo e anche dello sviluppo territoriale, attraverso un dibattito, che sia un dibattito comunque trasparente, un dibattito sicuramente significativo e basato su azioni concrete. Si torna a parlare di economia sociale, di economia civile, quindi non più un business personale ma che guarda un po' a tutta la comunità. Sicuramente, è molto importante sviluppare tutto il territorio, tutta l'area, diciamo, di Crotone, fermo restando che in questo ambito c'è spazio per tutti e quindi è molto importante far crescere il territorio, farlo sviluppare da più punti di vista e quindi in questo, diciamo, ambito l'economia sociale è un elemento importantissimo sul quale puntare e far crescere. Oggi il nostro territorio ha una serie di deficit che vanno dalle attività produttive ai trasporti a tutto il terziario, quindi l'economia sociale può servire effettivamente a sviluppare tutti questi elementi che sono elementi proprio dello sviluppo di un territorio. Parliamo anche dello start-up, della possibilità che si dà ai giovani di confrontarsi con il mondo del lavoro e quindi di poter in qualche modo già pensare al proprio futuro nella nostra terra. Sì, oggi, diciamo, l'economia in un certo senso assistita o comunque dipendente è un'economia che lascia il tempo che trova. Quindi noi vorremmo contribuire anche a sviluppare l'iniziativa dei giovani, le idee, ragionare su attività che sempre di più sono attività di tipo innovativo e noi puntiamo moltissimo sulla creatività e la capacità dei giovani di portare avanti queste iniziative. Noi possiamo sicuramente essere da supporto per la realizzazione o meglio sicuramente a livello progettuale e poi perché no anche a livello, diciamo, di diffusione di queste iniziative. Bisogna convincere i giovani tenendo conto che c'è sempre questa fuga di cervelli dagli anni 90, dobbiamo dire, ma che nello stesso tempo quei ragazzi che studiano fuori nei loro progetti non c'è sicuramente il rientro a Crotone. Sì, questo è vero, ma questo è vero fin quando il territorio ovviamente non dà risposte. Allora, nel momento in cui il territorio dovesse iniziare a dare delle risposte credibili, io sono convinto che i giovani preferiscono restare nella propria città, vicino ai propri genitori, ai propri parenti, però è chiaro che bisogna che ci siano delle risposte concrete, più che delle risposte, delle prospettive concrete rispetto alle attività da realizzare. Bisogna ridisegnare la storia di Crotone, guardare nell'attualità in maniera diversa? Ma la storia, più che ridisegnarla, vorrei che valorizzare la storia della nostra città. Io faccio sempre una considerazione, una volta c'era un premio letterario molto importante che adesso non c'è più, c'era un teatro stabile che oggi non c'è più, c'erano attività culturali come il concerto dell'Aurora che oggi non ci sono più, e così perché nel corso del tempo, quello che io dico sempre, la nostra economia si è desertificata. Allora non possiamo continuare a vivere in un'economia assistita e basta. Abbiamo le risorse, dobbiamo cercare di mettere a sistema le risorse per poter sviluppare il territorio. Abbiamo le risorse, dobbiamo cercare di mettere a sistema le risorse per poter sviluppare il territorio. Abbiamo le risorse, dobbiamo cercare di mettere a sistema le risorse per poter sviluppare il territorio.